Massimo, ci dirigiamo verso nuove posizioni sulla costa. Accanto agli uomini rombano potenti mezzi corazzati. Siamo in una nuova era. La nostra prossima vittoria sarà decisiva. Il passo finale è per riunificare il Regno d'Italia. Avanti, fratello. Brothers, the retreating period... Siamo in una nuova era. Siamo in una nuova era. Siamo in una nuova era. Vieni la faccia! Siamo in una nuova era. Avanti! Vieni! 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 Grazie a tutti. 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 È una nave da guerra. Dreadnought! Un assaltatore nemico! Ne ho trovato uno! Ho visto una mitragliatrice! La mitragliatrice nemica! Attenzione! C'è un ricognitore! È una mitragliatrice! We have taken the sector. Cleared the sector from enemy presence. We have secured the sector. Hei! Là c'è il soldato! No! 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 Vedo un medico. 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 Pleasance. We have secured the sector. We have secured the sector. No, no, no! No, no, no! We have taken objective butter. We are losing objective butter. We have taken objective Charlie. We have lost objective Charlie. We have taken objective apples. We have lost objective butter. We have taken objective butter. We have secured the sector. We have taken objective butter. 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 We are losing Objective Butter. We have lost Objective Butter. Vedo un assaltatore nemico! Assaltatore, segniamolo d'occhio! Vedo un nemico individuato! We have taken Objective Apples. 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 Let's go! Erfahrung! We have lost Objective Apples. Day 1 Hit Pan seguanceijuana Do you Prouds tpanis We have taken objective batter. Steal our soldiers from mine. We have lost objective batter. We have taken 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 objective batter. We have lost Objective Butter. Twenty of our soldiers remain. Defendiamoci! Defendiamoci! Laggiù! Una salvatore di Nikov! Mi hanno beccato! Mi serve un dottore! Avete proiettili di scorta? Avete proiettili di scorta? Avete proiettili di scorta? Fic drama! Non ce ne sono adattato! Tutte le nostre forme! Contatto visivo con un soldato nemico! Assaltatore localizzato! Ho individuato una mitragliatrice! Ho individuato, sulta! Uff! The final objective is within our reach. We have taken objective butter. 20 of our soldiers remain. We have lost objective butter. There is no shame in the Hitmen. We fought like wolves. And like the wolf, we are stubborn. So let us fight again for the honor of the kingdom of God.